Sicuramente gli obiettivi sono quelli di salvarci, da non retrocedere perché la Serie B è doppio incontro, perciò è abbastanza dura, ma soprattutto l'altro obiettivo è quello di far crescere i giovani. Ad un certo livello bisogna che inizino a giocare perché se no si rimane un po' indietro, perciò l'obiettivo è quello, due obiettivi, di salvarci e di far crescere i giovani. Noi siamo arrivati nel passato anche a fare la Serie A, però c'erano sicuramente più giocatori, anche importanti, e quest'anno abbiamo dovuto recuperare anche qualche persona un po' più avanti negli anni per poter formare una squadra possibile essendoci doppi incontri. Per quanto riguarda invece questo match che stiamo seguendo, incontro di Coppa Italia con la Cairese, possiamo già trarre qualche spunto? Lo spunto è che siamo in vantaggio, mi sembra 4-1, però siamo appena al terzo inning, fino al nono c'è, bisogna andare a vedere. L'obiettivo è quello di, se si vince, incontreremo una squadra che è uno spareggio tra il Piemonte e la Lombardia, e andiamo avanti così, anche perché è tutta esperienza che fanno prima dell'inizio del campionato della Serie B. Queste sono partite anche un pochettino di allenamento, se vogliamo, anche se importanti. Com'è possibile in ultima analisi riportare il baseball Sanremese ai fasti del recente passato? C'è da dire una cosa, che un nuovo regolamento dell'amministrazione, del comune, che una volta poteva disporre di una certa cifra, a loro scelta chiaramente, oggi è vincolata al contributo istituzionale che sono pochi migliaia di euro. E se non hai, mettendo pure, faccio una premessa, i giocatori pagano una certa cifra, però per arrivare a fare una Serie A2 bisogna prendere i giocatori anche da fuori, prendere i giocatori da fuori che hanno un costo. E perciò arrivare a quei livelli lì bisognerà trovare degli sponsor come si deve e finanziamenti, perché poi dipende un po' tutto da quello. Le nostre trasferte nel baseball sono abbastanza impegnative, perché non è che giochiamo in provincia o solo in Liguria, noi giriamo metà Italia, capisci? E allora, insomma, contributi ci vogliono.